Salve a tutti ragazzoni, bentrovati qui da Lost in Ice, oggi siamo pronti per portarvi in live Life is Strange True Color, qui ci immergeremo nei panni di Alex Chen e ogni nostra scelta sarà decisiva nella sua storia, quindi vi lascio al video e buona visione La battuta che mi hai detto oggi, che avevi fatto Con queste canzoni bellissime, ovviamente, iniziamo la nostra avventura in Life is Strange Acquista la storia di Steph, col cazzo di acquista la storia di Steph Perché? Ma baffanculo Steph, normalmente te lo sentiamo a Meremo Steph Life is Strange True Colors è un'avventura basata sulle scelte del giocatore Aspetta, ha gli occhiali suoi Do you have any plans as far as school or a job? My brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at So you'd be dealing with people? Maybe Maybe Does your brother know about your issues? Is that an official interview question, Dr. Lin? Alex Alex You know that I care about you You know that I care about you With everything that has happened I just want what's best for you He doesn't know No one will once I leave this place I'll just be a normal girl In a normal town Allora, qualche potere Che potere non lo sappiamo Ma sicuramente gli da fastidio avere questo potere Non è come gli altri Che in bene o male Erano più o meno contenti di avere quei poteri Avvicino il panino alla gamma che do un morso Oh Eh dai Fai un po' il generoso Lato A Tra visolo 1 Che c'ha i videocassette C'è le Le cose le cassette c'ha questa Non lo so Perché c'ha un lato A e il lato B Questo Questo perché ho visto 13 In generale Lo so Molto colorata Molto colorata Ovviamente è true color Che cazzo No vabbè Ce la può fare Oddio mio Un po' troppo sensibilità ragazzi Aspettate un attimo Quando ritorni a casa dalla discoteca No quando giochi a Call of Duty Vabbè Macnina gialla Usa per muovere la telecamera E fino alla Beh come gli altri Così Is what it is E' quel che è Ci affacciamo per vedere Se è assimilantevole Ah non è più pulito Ok a posto Mmm carino Ovviamente ragazzi Non è un Un gioco di grafico Però Sembra carino Infatti me devo riabituare ai nomi nuovi Normale Bello Qua siamo in Trentino Bello Bello Qua siamo in Trentino Che si è Un progetto Per il cielo Tempo O E' un'epoca Si E' un progetto E' un progetto E' un progetto E' un progetto Sì, è sempre grande, oh. Non è che devi fare con la tre. No, non così. Oh, figo. Sei il tuo animale abbraccio. Abbraccio, fratello. Abbraccio. Sono bella con il hug, se sei. Che figo, c'è la lanterna. Oh, è un signore particolare per la lanterna. Oh, è un signore particolare per la lanterna. Eh? È un signore particolare per lei la lanterna, allora. È così buono di vedere te ancora. Non posso credo che sei qui. Credi. Oh. Che vede l'aura delle persone. È un potere, sì, sì. Non c'è il potere. Non c'è il potere. Non c'è il potere. Non è molto più grande, eh? Che c'è? Il tempo sarà questo per te. Sei pronto a vedere la città? Sei venuto a vedere la città? Fai un girato. Sì. No, Protonne, sei troppo cringe con queste battute del cazzo. Comunque per me... No, no, sto a buttarla, io non ho letto nessuna cosa, eh. Per me, lei riesce a leggere, come sa di Alice, le aure... Il potere delle aure... Il potere delle aure... E ci ho capito, lo stato d'animo, forse. Anche meglio. Cioè, quello che stava di lui, non lo stava parlando. Il rivedere per i monti è incredibile. Eleanor, eh, Alex è qui. Alex, incontri di Eleanor Leif, owner di Flower Shop, e, honesta con Dio, la royaltà di Haven Springs. Oh, è molto bello di finalmente incontrivi. Benvenuti! Sì, sì, è molto bello di te, Alex. Gabe ha detto tutto di te. È felice di essere qui. È felice di essere qui. È felice di essere qui. Protonnea, che ti sei preso stasera da mangiare? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Questo è Arendelle. È Ivan. È Arendelle, questo, di Frozen. Ma è osccia. Ma è quale. Ah, è giustamente. Il delirio della fame. Giusto, giusto, capisco allora. No, questo è quello nuovo. Non lo ha mai donato perché non ce la fa mangiare. Guarda. È bello. Io pensavo che fosse con l'abbraccio, cioè dopo che ha avuto un contatto da fare Laura, invece lo sapevo. No, boh. Perché con quella non l'ha fatto. Gabe Chen buys make-up flowers per un'angry girlfriend. Oh, non posso aspettare. Ha diventato molto riuscito. Ma che cosa? Allora, ragazzo questo. Hey Gabe. Riley, incontri la mia sister Alex. Quale è la vostra maggior parte? Uh, cosa? È per una intervista collega, abbiamo stato discutito questo per giorni. Gabe dice che ho dato una risposta honesta, e è sempre meglio di dare una risposta honesta. E qual è l'alternativa? Lontano? Non lontano, più come strategica, half-true cosa. Come, ho lavorato troppo difficile, o ho visto troppo molte persone. Potremmo riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. Oh, sì? Che faria? Che faria? Non lo so. Tu hai già fatto il colloquio di lavoro, quindi scegli tu. O che furti? Tu hai già fatto un colloquio di lavoro. Quindi... Tu sei sincero. Tu sei sincero. È normalmente più difficile, ma... E poi sei più autentica. Tu hai detto! Wow! Tu sei già avanti a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a la città. È così. Alex, mi aiutami un po' Che ho ho per Charlotte? Le pelle sono le sue preferite. Ma ho le ho in linee che... Lilli di Valle è bello per direi perdita. Cosa pensi? E chi è questa cazzo di Charlotte? Questa volta? Magari i sottotitoli? Che niente, Sadak! Andiamo bene! E' quello che ero pensando! Anche l'arrivo delle regresse No, adesso sono curiosa, che ha spiegato gli ha fatto a andare? Ho paura Non è no! Non si va Sounds good Ma lei è innamorata di lui Penso che sì Cosa possiamo fare? Quello quando a fare quel puntino Le emozioni del personaggio E quindi Laura che sarebbero le emozioni Viola che vuol dire Si senta a visaggio S**t C'è la paura Sì Se Riley è così ansiosa di lasciare questa città Penso che non sia troppo male Sì Ma anche la tipo Il bancone è buono Allora dice Sì Proto ne sta a puntagutta Nel dubbio Nel dubbio so tutte sue E non so stato d'animo C'ho paura Si è bloccato? Step 1 Poi E Charlotte E tutti siamo felici E tutti sono felici Gabe è molto nervosa Per sicurare che ti piace qui E' bello Ok è preoccupato con lui Si è bello È barato Cosa Dimenticare Sì, mamma. Sì, mamma. Lasci, mamma. Lasci, mamma. Sì, mamma. Sì, mamma. Sì, mamma. Sì, mamma. Sì, mamma. Sì, mamma. È un problema, veramente. Domani sera la faccia e ve la mando, perfetto. Phil, mandala solo a me, perché lui non sa la merita. È più lungo di un minuto. Trattami. Eitan. Oh. Ciao. Gabe è il tuo fratello, certo? Io sono Ethan. Eitan. No, è Michele. Ciao Ethan. Eitan. Io sono Alex. No. Cosa c'è? 9th Warden. Oh, ha ancora trovato il sceptre di Serenity? Ha ancora trovato il sceptre di Serenity? Ma credo che ha bisogno del bangle di vanissare per arrivare. Ovvio. Ma mai riuscire un'assistente? Beh, non è autista che fosse una ricetta. Come se sei un'assistente? E' molto riuscire. Perché era una cosa che mi sembra di fare? E' un fischio. Si. E' anche un fischio.. E' un fischio. E' un fischio. E' un fischio. Tu puoi mantenere se vuoi, ho fatto un po' di copie che ho visto all'interno del record store Eh, questo è eccezionale, eh, non ho capito di leggere Ma come? No, Phil, ci abbandoni così Breve ma intenso Grazie, Phil Ma no I mean, I'm not an expert on old minds, but that would scare the crap out of me I just like to explore sometimes, it's no big deal Phil Grande, Phil, grazie mille per questo passato No, dai, devi essere attento I know we just metto, but be careful out there, ok? You don't need to worry, really, really Really I think I'll check out that record store Nice meeting you, Ethan Infatti, se la diavolo nel negozio di schismalini Mi piace Figo, infatti, come è un posto da montagna, guarda che il disegno è molto carino Mi piace tanto Rocky Mountain, record checkers No, niente violenza Niente violenza Va a farti Piccari da prodotto, no? Attenzione, caricamento con il disco Con il vinile Però ti devo dire, per il fatto dei segni e gusti mi piace di più questo, eh? Oh, guarda che figo Il Bigfoot Milcone, ti segui in live, ho messo due motte Già l'ha detto, ha messo prima pure lui quel profilo dell'ostro Ma quando? Tutto sopra Ma sì? Giù, giù Questo posto mi ricorda di un shop cape che ho avuto anche Ah, sì, non ho visto Ha messo due mesi da suo s*****o car wash job Solo per buy us qualcosa per ascoltare È un po' È un po' Sono messo a gli anni e sta ancora aspettando Mi fa il nome in un negozio di rischio Non è così Ma perché questa volta Buongiorno Non è così Ma non mi fa Non è così vedi ancora questa forella infatti molto bene noi stiamo vedendo in 4k ragazzi ma sfilato di zombie come è andata before the storm? voto da alix e lollo separatamente vai parla di before the storm no in senso in che senso voto c'è proprio vuole un voto è la radio del locale radio shock radio locale che figata hai fatto scegliere cose spettacolari ragazzi quanto piacerebbe vedere queste cose comunque non si esce tutte non va a conoscere un questo sono ryan comunque i ryan si somigliano tutti oh tutti uguali tutti la stessa faccia piacere di conoscerti per ora è carino per ora è carino per ora è carino ho visto alcune cose buone come questa store di record è incredibile non ho aspettato qualcosa come questo è aperta solo per te è aperta solo per te è aperta solo per te è aperta solo per qualcosa è molto importante sì beh potresti dire questo la guida per escursi luci ai ricami degli uccelli comuni wow inaspettato decisamente inaspettato non è quello che ho aspettato silenzio normale non ho fatto un posto gioco non ho fatto un posto gioco quindi sei un ranger di parco nazionale in colorado è un peccato che il negozio si è chiuso volevo provare un negozio per Gabe non ho fatto i rischi certo ciò che scambiata per il gioco in gioco rischi per il suo compleanno in gioco infatti periccio sono sicuro che si è fatto vedere da parte qualcosa oh non abbiamo già fatto colpo assi non eh quindi ben freddo via sef non se la prenderà sarà la vendita più facile da sua carriera se posso cercare quella lista sono sicuro di aver la vista se la vedo prima vuoi aiutami a guardare? oh sì e le idee sono dove iniziare? no friaos non c'è niente altro guitarra bella aspettabile non per vedere il caso di concetto improvviso firework gatta gatta la gatta la lista è quella oh cazzo visto? la gatta serve?